Siracusa, CISL, Medici, Vincenzo Romano, eletto componente della Secretaria Nazionale. Vincenzo Romano, nuovo Secretario Nazionale della CISL, Medici. L'elezione è avvenuta dalla presenza del Secretario Generale Nazionale della CISL, Luigi Sbarra, al termine del quinto congresso celebrato a Roma dalla Federazione di Categoria. Romano, che a dicembre era stato riconfermato alla guida della categoria Aracusa-Siracusa, completa insieme a Luciana Cois, la Secretaria che sarà retta da Benedetto Magliozzi, l'attuale Secretario del Lazio. Un'ulteriore responsabilità che assumo con impegno per questa categoria, ha commentato subito dopo l'elezione, c'è molto da fare e la salvaguardia dell'intera categoria messa a dura prova in questi due anni di pandemia è l'obiettivo che ci poniamo. La pandemia ha messo a nudo tutte le carenze e tutte le debolezze organizzative della nostra sanità e gli effetti di queste carenze sono stati avvertiti ancora di più nelle nostre piccole province, ha concluso Vincenzo Romano. I medici adesso hanno bisogno di maggiori tutele, il riconoscimento deve essere tangibile per alimentare sempre più il livello e le eccellenze della sanità italiana. L'elezione di Romano è un riconoscimento per l'intero gruppo dirigente di questo territorio, ha sottolineato il segretario generale della Ust Vera Carasi. Grande soddisfazione per un ruolo che rende merito a chi sia speso al fianco dei colleghi in questo periodo di emergenza. Sono certo che il nuovo segretario nazionale della CIS di medici saprà portare a Roma la sua esperienza e il suo pragmatismo.